La biodegradazione al centro dell'equilibrio della natura In natura, tutti gli organismi viventi sono fatti da sostanze definite organiche, perché contengono carbonio, un elemento essenziale alla vita. Per esempio, gli organismi vegetali si alimentano tramite la fotosintesi del carbonio presente nell'atmosfera. Alla morte di questi organismi, il carbonio presente ritorna in natura, grazie a una serie di trasformazioni che chiamiamo biodegradazione. In un primo momento, gran parte di queste sostanze si decompone in pezzi sempre più piccoli, sotto l'azione di fattori ambientali fisici, come il vento o il sole, e biologici, ovvero miliardi di organismi viventi, come insetti e lombrichi. Una volta degradate, queste sostanze vengono poi assimilate progressivamente da microorganismi come i batteri. Nello stadio finale della biodegradazione, definita bioassimilazione, rimane soltanto il diossido di carbonio rilasciato nell'atmosfera, l'acqua e la materia organica ricca di carbonio, chiamata biomassa o humus. Questa nuova biomassa fertilizza il suolo in maniera naturale e favorisce la crescita di nuove piante. La biodegradazione dipende dalle caratteristiche delle sostanze organiche. Queste sostanze devono essere di base biodegradabili, ovvero assimilabili dai microorganismi. La durata della biodegradazione varia a seconda della composizione e delle dimensioni delle sostanze. Pezzi più piccoli permetteranno di avere una maggiore superficie per i microorganismi e di accelerare così la biodegradazione. La durata della biodegradazione dipende da vari fattori. La quantità e la diversità dei microorganismi indispensabili alla biodegradazione, l'umidità, la temperatura e la presenza di ossigeno. Questi fattori hanno un effetto sulla vitalità dei microorganismi e la loro capacità di degradare in modo più o meno veloce. Questi fattori variano a seconda dell'ambiente in cui avviene questo processo. Il compostaggio industriale e il compostaggio domestico garantiscono l'ambiente ideale per la biodegradazione. Offrono una buona ossigenazione, un'umidità controllata e una temperatura più elevata, che favoriscono l'attività dei microorganismi, riducendo così la durata della biodegradazione. Il suolo è, per sua stessa natura, un ambiente che favorisce la biodegradazione. La durata dipende dalla concentrazione dei microorganismi, dalla tipologia di suolo, dal clima e dalle stagioni. L'acqua dolce e l'acqua di mare, invece, hanno una bassa concentrazione di microorganismi e offrono condizioni meno favorevoli per la biodegradazione, che avrà quindi una durata maggiore. Quello che è fatto tramite la fotosintesi viene disfatto dalla biodegradazione, che mantiene la fertilità e la qualità del suolo grazie alla sua forza rigeneratrice. Allora, favoriamola!